In questo quanto dovrei sfidarti con Giovanni e dato che venite da due mondi completamente diversi ho pensato ad uno stile che non appartiene a nessuno di voi, il flamenco. È uno stile che ho sempre apprezzato con una tecnica unica. L'attitudine è simile a un passo doble che hai studiato durante l'anno perché reincarna lo spirito del matador ma in realtà sono due balli completamente diversi. La sua caratteristica principale è la ritmica dei piedi. Penso che tu possa avere l'attitudine giusta e farlo dignitosamente. Penso però che difficilmente porterà il punto a casa perché Giovanni non è inferiore a te in presenza scenica e fisicità ma ha molto più carisma, padronanza e controllo del corpo a partire dalla postura, dalle braccia e dalle mani. Hai voluto serare a tutti i costi, ora ci sei, non c'è più tempo per le chiacchiere, bisogna vedere i fatti. Grazie a tutti.